ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video questo qui è un video ricostruzione con tip fatto da una mia cliente e ha scelto questo bellissimo color nude che infatti si chiama nudo di passione unghie sempre due passate e infine ho utilizzato il lucido nuovo quello easy gloss che ho acquistato su passione unghie e alla fine l'ho sgrassato con l'olio cuticole io spero che il video vi piaccia se sarà così metterete pollice in su se volete sotto il video mi commentate e noi ci vediamo alla prossima un bacio ciao 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 ciao